L'era dei social, è l'era che ha portato con sé la confutazione della realtà, ma non solo il tentativo di confutare, uno dice adesso ci sono qui Giacomo Foretti e Enrico Ventana, fino a dieci anni fa uno che gli avesse detto ma no non è vero, sono altri due, sono Bruno Vespa e Aldo Baglio. Aldo Baglio. Impossibile, analfabeta. Che brutti esempi, che brutti esempi, analfabeta anche, ma chi dei due dici? Vespa. Quanti di voi è la prima volta che mettono piedi a questo teatro? E sono sempre tanti, cazzo! Vuol dire che a quelli che sono venuti la volta prima non sono venuti. Cioè, vabbè, venite, venite a questo teatro che ha bisogno di voi. Prendete il programma che abbiamo stampato, abbiamo speso un sacco di soldi, quindi dateci soddisfazione, lo troverete lì all'uscita. Ci sono dei bellissimi spettacoli, in particolare ve ne segnalo uno, dal 13 di aprile per quattro giorni straight. No, è uno spettacolo meraviglioso, divertente, urticante, vi dico solo questa cosa qua. E, tra l'altro, se qualcuno avesse visto il nostro ultimo film, uno degli attori, Giovanni Anzaldo, era il figlio mio nel film. Per cui, venite a vederlo, spero che vi sia piaciuto nel film, se ho detto, oddio, fa cagare quello lì, non vengo. Invece no, a teatro è bravissimo. Quindi, siamo pronti, sono contento di avervi qua, belli, numerosi. Niente, è solo il Covid, è la diciottesima variante, non vi preoccupate, le prime tre file sono a rischio, ma sono cazzi vostri, siete arrivati troppo presto. Allora, devo ringraziare Cambly, che gentilmente sostiene questa puntata, la sesta puntata del podcast. Ladies and gentlemen, niente po' po' di meno che Enrico Bentana! Pazzarola, che accoglienza, Enrico! Ma hai fatto, l'hai preparata tu, dai! È bello! Scusa, sto in piedi! No, stai seduto? Non so se avete notato. Track? 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 Figata, speso che qua sono... Io me ne vado! No, no, stai... Senti, Enrico, ti ringrazio di essere qua, però sono imbarazzatissimo, perché intervistare uno che normalmente fa l'intervistatore, l'ancorme, l'opinionista, è come andare in montagna quando ha appena navigato con la macchina senza le gomme da neve, per cui il rischio di eragliamento è... Sai derapare tu tanto, io ti immagino, no? Sì! Ma vai tranquillo, poi diciamo, ci conosciamo da... Siamo conosciuti stasera, no? Da stasera ci conosciuti stasera... Ci siamo conosciuti praticamente in chiesa, perché abbiamo la stessa fede, no? Ne parliamo dopo, ne parliamo dopo, perché la religione non va tanto di moda in questo periodo, no? Senti, cominciamo con una domanda facile, facile, facile. Ma tu, da bambino, no? Avevi i sogni come tutti i bambini, voglio fare o l'astronauta, o il calciatore, o l'avvocato e al massimo il medico? Io devo dire la verità, è chiaro che qualsiasi bambino vuole anche, come piano non si sa se A, B, C, fare il calciatore, no? Se è delle nostre classi di età. Io volevo fare il giornalista televisivo, quindi da bambino... Ma subito? No, no, subito, subito. Ma subito, davvero. Cioè i tuoi adattare sette anni ti ha regalato una redazione? Ma mio padre però faceva... Ti ha regalato? Era Moratti, no? E che ne so, no? Non lo so. Il piccolo redattore, come il piccolo... Il piccolo redattore. Il meccano. No, 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 perché mio papà faceva il giornalista. Allora io sempre pensavo di fare il giornalista e di fare il giornalista in televisione. Cioè, quindi è stata una cosa noiosissima quando poi l'ho fatto davvero, perché... Capisci? È come se a 25 anni fai il Lego. Cioè è la stessa cosa che facevi da bambino, l'ho fatta poi davvero. Però davvero era questo, non scherzo. Poi io, che sono un po' più grande, penso di essere il più alto di età qui. No, no, ho visto gente bella passita, l'ho vista, l'ho vista, non ti preoccupare. Io sono il più grande di età, sono pronto a scommetterci. Sul palco sì, sul palco sì. C'è qualcuno del 54 in sala? Eccolo lì, hai visto, ti ha già battuto. Ti ha già battuto. C'è qualcuno del 52? No. Sono tutti in ospedale. Vabbè, comunque sia, sono uno dei più grandi. E la verità è che i grandi sogni, l'astronauta, eccetera, però io quando avevo 14 anni l'uomo è andato sulla Luna. Adesso, mi spiace per voi davvero, non potete vedere questo sogno di sempre che si corona. Furono momenti pazzeschi, pazzeschi. Ecco, per voi l'equivalente potrebbe essere il primo alieno che atterra sulla Luna, il primo marziano che arriva sulla Terra. Ecco, questa è una cosa. Potete pensare cosa potesse essere per la prima volta l'uomo sulla Luna. A parte che poi, in realtà, dopo praticamente 50 anni non succede più. Quindi è una cosa che adesso forse è tornata a essere qualcosa di fantastico quando sarà possibile. Anche perché si potrà vedere sicuramente in diretta, a colori, una cosa, ma ti sto facendo perdere al tempo. No, 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 no. Volevo, io cercavo una pausa per infilarmi e dirti una cosa a questo proposito. Sai, io ho un anno meno di te. Quella sera lì, meravigliosa, quando sei andato sulla Luna, adesso dirò una cosa che faccio una figura da pirla. Ti sei addormentato? No, 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 è andata così. Quando Tito Stagno ha annunciato, ci siamo, litigiamo. No, insomma, ci siamo andati sulla Luna, sono uscito fuori e ho guardato sulla Luna. Giuro, ho avuto un istinto... Ma sai quanti milioni di esseri umani lo hanno fatto? Perché la Luna, noi la vediamo, adesso sembriamo due vecchi che siamo, però romantici, eccetera. Però è veramente dall'antichità, qualcuno di voi sarà anche andato a scuola, ci sono quelle cose, le poesie alla Luna, eccetera, eccetera. La Luna è sempre stata l'affascinazione per gli uomini, la Luna piena. Quando è piena si vede bene, si vedono addirittura un po' i crateri, tutte quelle cose meravigliose. E che fosse improvvisamente spugnabile ha fatto, ha molte idee, vediamo se si vede qualcosa. Magari un puntino che ti fa illudere di vedere quel momento eccezionale. Ma io dico questo perché i sogni, quindi, erano altri, potevano essere altri, non potevano essere di questo tipo. Potevi sognare di essere come Mariolino Corso, fare il campione però anche un po' stiloso, a cui piaceva camminare invece che correre, con i calzettoni abbassati. Oppure fare quello che raccontava queste cose. A me è sempre piaciuto. Io non lo nascondo. Appartengo a quella classe di età, che è la tua anche, in qualche modo. Qui c'erano i primi televisorini e io mi chiudevo in camera, o anche in bagno, non è negabile, e toglievo l'audio e facevo la mia telecronachina. Perché quando tu sei appassionato, tenti di fare tutte le cose da solo, come 50 anni prima si facevano dei giochi per fare la guerra, e c'era la guerra fuori davvero, il nostro sogno era questo, il mio sogno era questo. Ed era, e dì che mi sono allenato, e alienato anche. Ma hai scritto già qualcosa a proposito della luna o no? 14 anni, no. Se ho scritto in che senso? Adesso? No, no, all'epoca. No, 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 quella no, la seguivo, ma perché davvero scemo? Seguivo quella roba che tu citavi, la cosa tra Tito Stagno e Ruggero Orlando, la diatriba, ma chi erano gli altri anche, guardavo, Piero Forcella, che era l'esperto di astronautica, che c'era lì. Poi ci fu un grande scazzo, si può dire? Sì, 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 anche di peggio, puoi dire. C'era stato un grande scazzo e anche di peggio. Tra uno che si chiamava Guardamacchia, mi pare che era un grande attore, e Warner Bentivegna, che era un grandissimo attore che aveva fatto una tragedia americana, era famosissimo. Figo. E che ebbe un attacco di nervi, stiamo qui a fare da me, lo ricordo, perché erano tutti sconcertati, perché era una cosa che ovviamente andava proprio sui nervi, perché era una cosa lunghissima, era una vera maratona, scusate questo termine, che durò giorni e notte, perché si aspettava, perché poi quando ci fu l'allunaggio... Ecco, puoi non fare certi versi, parole sì, ma i versi... Quando ci fu... Quando ci fu... Così è più chiaro. Quando il LEM, il modulo lunare, toccò la superficie del satellite, va bene così, più allusivo, e poi ci fu da aspettare qualche ora perché dovevano poi uscire, no? Certo. C'era tutte le cose e poi ci fu il primo passo, un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità, come disse Armstrong. E lì c'era da fare il riempitivo, da parlare di qualcosa, perché non si può stare lì a aspettare. Mancano due ore e un quarto, mancano due ore e quattro... No, allora c'erano delle cose. C'era uno, che poi sarebbe diventato un grande conduttore del telegiornale, Massimo Valentini, che era all'osservatorio, al Galileo, il museo di Firenze. Insomma, io seguivo come un cretino, più che il fenomeno, l'epifenomeno che era il racconto televisivo. E però, insomma, è una cosa meravigliosa. Sapete l'altra cosa meravigliosa? Scema altrettanto, però ve la dico. Che facevi una cosa, e anche Giacomo la faceva contemporaneamente a me, che noi sentivamo che stava facendo tutto il genere umano. Tutti i viventi sulla Terra stavano guardando questa stessa immagine. Ed era una cosa straordinaria, che noi oggi riusciamo a riservare solo a una partita di calcio, alla finale del mondiale, no? E il tutto genere umano guardava quella roba lì e metà diceva alza il volume, l'altra metà andava ed alzava il volume. Perché il volume non era lì col telecomando. Esatto, non c'era il telecomando. Ed erano anni pazzeschi, no? La sfida USA-URS per la conquista Gagarin. Poi l'Italia era fatta per metà di atlantici e per metà di comunisti filorussi, no? Ma come adesso, peraltro. E la verità era che quelli dicevano «Ah, speriamo che vinca la Russia con l'URUS». Finchia, l'ho capitata adesso, Enrico! Bella, bella. Sembra Dazon, eh? E io pago. e questo era una cosa e quindi c'era speriamo che vincano con la Vostok perché poi si avevano i nomi russi le navicelle dell'Urs e qui c'era il progetto prima Gemini poi il progetto Apollo John Glenn perché poi ovviamente tutti erano sembravano tutti come dei personaggi dei film quelli americani dei telefilm perché allora c'erano i telefilm noi guardavamo i telefilm oh yes e poi la cagnetta laica tu te la ricordi? come no? a un certo punto i russi mandano nello spazio una cagnetta laica laica che vuol dire in russo laica e questa cagnetta diventa famosissima come Valentina Tereshkova la prima donna ad andare nello spazio anche lei i russi poi facevano il lancio così cioè si superava si entrava si usciva dall'atmosfera e si ritornava giù poi per fortuna ovviamente c'era quando succedeva perché poi ci sono stati sicuramente gli incidenti mortali da una parte all'altra e non se n'è mai parlato però il primo uomo nello spazio appunto Yuri Gagarin sembra che abbia fatto così sostanzialmente però tanto valeva perché era una gara e poi invece ci fu voi sapete la cosa più bella di tutto questo chi è l'uomo che porta gli Stati Uniti a vincere la gara con i russi con i sovietici per la conquista della luna si chiama Werner si chiamava Werner von Braun no? ed era americano? no era tedesco? sì e per caso l'avevano preso quando è finita la guerra? sì e che cos'era? era il capo dei progetti della V1 e della V2 di Hitler sapevano che era un grande cervellone quando arrivarono in Germania gli alleati gli americani andarono che vuol fare adesso? vuol fare anche lei un qualche sottoprocesso di Norinverga o per caso le interessa venire con noi a fare il progetto spaziale americano? la seconda la seconda the second ah lo sapevi già I like yes e guarda queste storie che non vengono più raccontate Werner von Braun non è che è nell'ombra una cosa segreta è stato intervistato da tutti perché è stato veramente il padre del progetto Apollo il progetto che porta l'uomo sulla luna a proposito se voi siete per caso appassionati di questo o lo eravate prima nel mio sproloquio adesso un po' meno ma ancora un pochino di resta Oriana Fallaci ha scritto un libro sugli uomini che dovevano andare sulla luna e tra l'altro raccontò di Armstrong si fidanzò anche con uno dei colleghi di Armstrong e fece un libro straordinario in cui si racconta di Armstrong e degli altri e di von Braun prima che si arrivi sulla luna quindi è un libro che non è di quelli elogiativi encomiastici dopo la conquista ed è se il sole muore quando il sole muore come è ed è un libro bellissimo ve lo consiglio nel caso ove mai fosse interessati a questo argomento a proposito della televisione in quegli anni 69 la luna eccetera mi ricordo ho un ricordo personale particolarissimo 1970 mondiali di calcio in Messico i miei genitori che facevano tutt'altro facevano mia madre l'operaia a testa del mio papà il metrano meccanico ma hanno sempre avuto la passione dei bar e quindi mia madre smise di lavorare aveva un bar eccetera e c'era dei mondiali per cui siccome venivano praticamente tutto il paese che non era il paese che era villa cortese villa cortese anime numero 3500 abitanti 3500 e tutti al bar tre bar tre bar mille per bar non stai scherzando allora mio padre compra il televisore attenzione arate questo è scontato però ocio a colori oee ma la Rai non trasmetteva ancora a colori ma la Svizzera e tutti bravo e tutti in dialetto se compro il televisuto e buta via do you speak english yes cioè gli avevano dato proprio ma sei un coglione non c'era mentre sulla Svizzera no con questa voce meravigliosa Albertini Giuseppe Albertini e quindi la famosa partita 4-3 c'era tutto il paese lì a casa tua al bar praticamente che si viveva lì e quindi fu una cosa meravigliosa e la prima volta che in tutta Italia si andò in piazza dopo la partita cioè si è scese in strada esatto quello che poi avete visto avrete fatto anche voi anche tenete conto che quella partita si svolge come tutti sai 4-3 Italia-Germania allo stadio Azzeca di Città del Messico ma si svolge quando sono le 10 di sera il calcio d'inizio da noi siccome finisce come tutti sanno spero ai supplementari all'uno e un quarto si dice allora succede che d'improvvisamente è la prima volta è scritto Nando dalla Chiesa un libro su questo succede che la gente va in strada e che era una cosa che non si faceva che si faceva per la politica negli anni duri difficili della politica poi si sarebbe rifatto per i cortei eccetera ma spontaneamente la gente va in strada a festeggiare come se fosse dato il 25 aprile la fine della guerra ed era una straordinaria festa di popolo in tutta Italia c'è qualcuno di voi che non ha mai visto Italia-Germania? tutti perché siete così giovani beh se siete appassionati di calcio aspetta dammi la luce uno ha alzato la mano sì lì in seconda fila quanti anni hai? ma vaffanculo 22 anni fa incazzare no però io vi consiglio una cosa fate un esperimento che culo tu ce l'hai ce l'hai ce l'hai uno schermo qui grande ce l'avete? sì sapete che ci sono ci sono le vecchie cassette non ci credi che saranno anche ormai dei flop o anche delle tracce ormai in cui c'è tutta la partita col commento originale di Nando Martellini a colori ormai e vi posso assicurare che sono due ore meravigliose meravigliose perché le grandi partite di un tempo hanno proprio tutti i risvolti adesso uso una parola veramente che farai non ridire scespiriani perché ci sono proprio tutti gli elementi la gioia il dolore la sorpresa l'intrigo ci sono delle cose cioè il gol all'ultimo minuto dei tempi regolamentari della Germania Schnellinger bastardo milanista io posso dirlo il conduttore può dirlo può dirlo ma qual è nelle due la parolaccia la seconda ovviamente allora poi succede che succede delle cose drammatiche si va ai tempi supplementari è finito è finito il sogno fermati un attimo ti ricordi che Franz Beckenbauer si si ha rotto il bravo la clavicola la spalla giocò tutto il tempo così eppure era meraviglioso tac ecco diciamo la complessione fisica era diversa però è ingrassato anche Franz Beckenbauer comunque la citiamo però se ve l'andate a vedere vedrete che è come i vecchi film per noi vecchi i vecchi film tu li rivedi e ti sembrano bellissimi li sai a memoria ma li riguardi tutti e trovi un pezzettino una cosa nuova eccetera eccetera diventerete grandi anche voi d'età e vi verrà questa cosa di rincoglionamento magari con Terminator con cose più recente però vi assicuro che a me capita di rivedere Casablanca dei film che forse nessuno guarda più Notorious 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 è bellissimo perché l'ordito è pazzesco di Hitchcock Notorious è veramente bello la donna che visse due volte l'ho visto sette volte allora scusa quindi ha vissuto quattordici volte ma guarda che se parli di guarda Enrico no 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 non fare così perché se parli di Hitchcock cambiamo argomento parliamo di Hitchcock tutta la sera io sono un appassionatissimo veramente ma assolutamente sei d'accordo che il film più bello suo è no 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 non lo dico la signora scompare lo conosce? io ti salverò io ti salverò no a me non è piacere perché non mi piace non mi piace Gregory Peck ah vabbè vabbè è un attore un po' un gatto di marmo eh sì però guarda io penso che ci sono adesso però non gli possiamo no no infatti ti volevo domandare dopo ritorniamo su Hitchcock dopo ci torniamo so anche perché in prima fila ci sono degli appassionati cicocchiani veramente? sì alzi la mano eccolo lì e ascolta qual è stata è stata la notizia che ti ha fatto più piacere annunciare in tv beh ero ero a Madrid quel giorno non ho potuto annunciare 13 anni fa quindi avresti voluto annunciarla però le notizie le notizie belle sono sai eh mi interessa questa cosa sai che sai che perché perché c'è un pregiudizio che è che è reale come tutti i pregiudizi un luogo comune che è reale come tutti i luoghi che ha un dentellato di realtà le belle notizie fanno meno notizia sicuro ma questo è sicuro questo è certo mi ricordo bene le situazioni tragiche drammatiche e no ma sforzati di dirmi una bella notizia che ti è piaciuto beh scusa però io ho avuto una fortuna di fare il telegiornale subito dopo la vittoria ai mondiali dell'Italia nel 1982 era il TG1 eh la partita andava sul TG2 mi parli ricordare quindi eh su Rai2 intendo dire quindi pubblico direi uno ovviamente lo so tutti hanno guardato la partita mentre qualsiasi cosa ci fosse stata anche che so scegliete la cosa più più accattivante arrapante comunque uno guardava la partita no e e però il telegiornale andava in onda decentemente dopo da essere di nuovo quella cosa che quando vinci vorresti vedere tutto e c'erano i primi caroselli da far vedere della gente e feci quel telegiornale quello era veramente una cosa bellissima fare un telegiornale quando devi raccontare una vittoria per cui godono tutti quasi perché basti incontrati ci sono perfino quando vince la nazionale contro la Germania e uno uno ce l'ho presente non lo posso citare perché siamo in polemica proprio in questi giorni però dai proprio perché siamo in polemica dì ma no che cazzo ne frega ma no ma poi sai ma cazzo uno che non goda vedere è un po' è anche giuventino è anche giuventino vabbè dai allora dillo tanto la passa sempre liscia non ti preoccupare dai passa liscia perché vabbè comunque non lo posso dire non lo posso dire poi secondo me qualcuno ci può arrivare e basta fine allora abbiamo detto la cosa più bella 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 notizia lo so che è finita l'intervista no no beh tu volevi sapere quel nome di quello lì no dopo me lo dirai dopo dai la più brutta o le più brutte le più brutte sono tante tante brutte ma voglio sapere quella che ti ha fatto soffrire quella che è proprio perché non deve essere facile non deve essere facile guarda la più brutta non è ho dovuto fare l'11 settembre la diretta ma lì hai la tensione però anche l'esaltazione di vedere una cosa incredibile una cosa pazzesca l'11 settembre fu una cosa di quando si dice geometrica potenza cattiva però era una cosa che aveva una sua maestosità negativa la cosa che mi fece più paura ero ancora giovane era se non sbaglio l'84 o l'85 quando dovetti fare edizione straordinaria il telegiornale perché ero giovane avevo 30 anni ed era il Tg1 e ne ho 68 e Gheddafi fece sparare verso Lampedusa e perché perché era brutto perché non sapevi cosa stava succedendo perché aveva a che fare con un pazzo Gheddafi era tecnicamente pazzo dalla Libia e non sapevi se sai 1984 o 85 era il trentesimo anno il ventinuesimo anno di pace noi non pensavamo minimamente che qualcuno potesse fare un atto ostile nei nostri confronti no e per di più erano negli anni 80 che sembrano gli anni proprio della grande pacificazione no stava per arrivare Gorbaciov era insomma e c'è questa questa cosa improvvisa e allora c'è una fortissima preoccupazione devo fare il telegiornale e mi rendo conto che ho paura è l'unica volta in cui io ho percepito forse perché ero giovane proprio la paura che cosa può succedere qui che cosa può succedere tenete conto che conta molto il fatto che ne siamo direttamente coinvolti perché l'11 settembre era una come dire una sfida tra gli islamici e gli Stati Uniti tante altre volte anche questa guerra terrificante che 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 ci pesa molto e che arriva subito dopo la pandemia però la viviamo come vicina ma che non ci tocca come pericolo diretto là era un piccolo atto che poteva essere la nostra Seraievo cioè l'inizio di una guerra contro un pazzo che peraltro è sotto le nostre coste cioè quasi a vista dal sud d'Italia e tanto più da Lampedusa quello fu il momento in maggior paura adesso non la voglio far lunga potrei fare prendere dal maestro Hitchcock le tecniche di timore prolungato però questo era l'inquietudine l'ansia era forte scusa però intrigo internazionale intrigo internazionale precursore di tante cose la scena del Monte Rushmore sì sì dai no no meravigliosa meravigliosa e del rear window beh certo quello scusa dico per ignoranti la finestra sul cortile perché lì c'è anche James Stewart che è the rear window ma sai che poi il cattivo che si vede lì sai chi è Perry Mason Raymond Burr do you know Perry Mason Perry Mason sapete chi è solo i più anziani solo quello del 54 se lo può ricordare adesso però sembriamo veramente due vecchi rincoglioni ma lo siamo lo siamo ecco dove ti ho visto ecco all'RSA sì senti un po' ascolta l'uomo che sapeva troppo mamma mia che meraviglia c'è veramente l'imbarazzo della scelta delitto perfetto delitto perfetto è un film filosofico possiamo dirlo possiamo dirlo ci stanno odiando comunque tra un po' parliamo di calcio ma nel frattempo allora l'informazione l'informazione hai bisogno di un'informazione? che tipo di informazione? è questo è il tipo perché adesso credo che tutti si viva non lo so io sì perché sono ingenuo che prima o poi da qualche parte esista l'informazione quindi il reportage di un fatto di cronaca neutro sono un illuso vero? ma no ma insomma allora io conosco tantissimi giornalisti anche che lavorano con me e persino io stesso che ambiamo a fare veramente i racconti più spassionati sulle cose che succedono poi però noi viviamo un'era in cui questo non è più possibile perché ci sarà sempre qualcuno per il quale stiamo mentendo stiamo taroccando stiamo servendo l'interesse di qualcuno io lo vedo l'era dei social è l'era che ha portato con sé la confutazione della realtà ma non solo il tentativo di confutare uno dice adesso ci sono qui Giacomo Foretti Enrico Ventana fino a dieci anni fa uno che gli avesse detto ma no non è vero sono altri due sono Bruno Vespa Aldo Baglio Aldo Baglio impossibile analfabeta che brutti esempi che brutti esempi analfabeta anche ma chi dei due dice Vespa Aieie Vespa E comunque Aieie Vespa non lo paga il biglietto sul tram ne sono sicuro allora uno avrebbe detto sono e gli altri dicono sei un cretino stai zitto e finiva lì oggi uno lo dice e continuerà a dirlo e anche se gli diranno no ma c'era no dice no erano e lo scrive su un social e qualcun altro gli dà ragione per il gusto gli dà ragione perché magari gli stiamo sulle scatole noi o gli stanno simpatici quei due non mi ricordo i nomi che hai citato Aldo Aldo e Bruno Aldo e Bruno Aldo Bruno e questo succede su tutto cioè c'è gente che dall'11 settembre magari lo troveremo anche qui allora mi chiedo scusa chiedo scusa subito per l'esempio e dall'11 settembre continuerà a dire che non è vero che c'erano gli aerei che sono andati contro le torre gemelli se lo sono tirati giù tutto da solo è una cosa che hanno fatto gli americani da soli e quello lì che c'era nei video era il sosia di Osama Bin Laden no tutte queste cose una volta si dicevano davanti a un camparino al bar poi per fortuna si usciva dal bar e quello continuava di restare stronzate adesso sedimentano stanno sui social non sono cancellabili trovano adepti diventano teorie si creano quelle che gli esperti chiamano le echo chambers in cui ci si trova tutti virtualmente nei gruppi di chat ci si trova tutti che la pensano in un modo e ci si dà ragione e addirittura ci si aizza ci si fomenta reciprocamente ma perché è accaduto questo secondo te? perché siamo nell'età della faziosità e anche del risentimento del risentimento di chi magari non ha mai avuto voce in capitolo e adesso ce l'ha grazie ai social la maggior parte ne usa positivamente c'è una parte che è minoritaria ma più rumorosa e quindi sembra molto più pervasiva che una volta appunto veniva limitato nell'ambito domestico nelle sue farneticazioni adesso non solo trova modo di farsi sentire e più sei adesso la Meloni l'ha usato questa parola underdog e più senti voglia di spararla grossa per farti notare come fanno i bambini quando sono tra gli adulti la dicono grossa per farsi notare per farsi vedere e così succede nei social questo a livello come si sarebbe detto una volta a livello di base poi ci sono quelli che hanno interesse come si come si in qualche modo si intossica si avvelenano i pozzi del dibattito pubblico aizzando e fomentando e soffiando sul fuoco di quello che dicono questi o dandogli delle prospettive delle idee cioè ripeto probabilmente ci sono delle persone tra noi tante persone che legittimamente pensano che l'obiettivo da perseguire in questi mesi in questi giorni è la pace a tutti i costi ma ci sono alcuni spero non qui che dicono ha ragione Putin e dicono ha ragione Putin non per un'elaborazione che hanno fatto perché l'hanno trovato da qualche parte qualcuno apparentemente per loro altrettanto di base come loro che gli ha spiegato tutti tirano fuori il Donbass mille spiegazioni che io incontro vedo da lontano per cui è evidente che su questo così come sui vaccini così come sui vaccini cioè abbiamo visto e vediamo tuttora se adesso andiamo ancora sui social troviamo la corrente Novax che si è inventata una serie di cose terrificanti per delegittimare tutto quanto la medicina ufficiale la scienza ufficiale i governi per dire primo allora il covid autoindotto prima c'era il covid che veniva dal laboratorio il covid autoindotto il covid non esiste il covid è uno strumento di controllo del mondo il covid è stato voluto dalle big pharma poi i vaccini i vaccini ti vogliono instillare delle cose cioè sono delle cose che alla lunga tra dieci anni uccideranno tutti tutte queste cose alcune veramente senza capo né coda sono messe in qualche modo per delegittimare tutto e tutti e nonostante sia passata speriamo definitivamente la pandemia no? non credo sono il paziente ultimo nel caso fossi penultimo e ormai ti ho già ti sono e e no e questa cosa la continuiamo a vedere nonostante sia finito loro continuano come se fosse un elemento identitario l'adesione a un club l'iscrizione a un circolo quelli che non se la bevono quelli che non ce lo dicono quelli che la realtà è sempre un'altra che non si accontentano che gli puzza che una cosa sia semplice mi hai anticipato un argomento porca miseria vabbè ritiro tutto bravo no perché la questione dell'appartenenza che credo sia un concetto fondamentale per tutti gli esseri umani cioè appartenere ad una famiglia ad un amore ad un'amicizia ad una squadra di calcio ad un partito credo che salvaguardi la nostra psicologia e l'equilibrio psichico no sì è sano è sano che ti dà un'idea di appartenere non essere soli è una cosa vitale bellissima però credo che in sé contenga anche il germe qualcosa di negativo perché l'appartenenza se è sposata in toto senza quel senso critico senza quell'affalato di libertà rischia di posso citare un esempio scomodo non per la nostra tifoseria ma per la nostra squadra che ci ha coinvolto ma ce ne sarebbero a decine di esempi la famosa partita qualche mese fa a un certo punto la curva dell'Inter si svuota improvvisamente mio figlio era allo stadio non comprendevo eccetera eccetera e poi si era sparsa la voce che un capo della curva era stato ucciso in un agguato criminale per regolamenti di conti e dico io ma magari mi sbaglio per un gesto di solidarietà per questa persona tutti i capi della curva e tutta la curva è questo che mi ha preoccupato è uscita fuori in segno di solidarietà per quella cosa ce ne sarebbero altri di esempi ma quello mi colpì perché quasi nessuno di quelle migliaia di persone trovò il modo non tanto per giustificare ma per spiegare per spiegare quello accaduto quindi quello fu un gesto secondo me legato puramente all'appartenenza brutale che peraltro fu compiuto in maniera coattiva per gli altri che avevano il biglietto della curva furono costretti a uscire anche loro e non vedeva partita era morto questo che era a sua volta un pregiudicato esatto però queste sono le curve aspetta fammi dire una cosa questa cosa potremmo liquidarla dicendo vabbè ma sono coglioni sono delle curve non è così questa cosa avviene anche nei partiti oramai tutti i partiti sono coinvolti del famoso arco costituzionale ogni tanto c'è qualcuno di un partito che finisce in galera e tutti gli altri in 99 siete disonesti noi solo siamo onesti io trovo che sia preoccupante per questo motivo qua che l'appartenenza ideologica viene lontano da una cosa che mi sembra che magari non condivido ma che è una cosa che ti è molto cara mi sembra ti seguo ti leggo vedo che bisticci su sta cosa è importante mettere a tema che esista forse la verità o no allora hai messo insieme tutta una serie di cose tutte importanti ma diverse le curve sono il problema degli stadi delle tifoserie perché le curve seguono delle dinamiche che a volte le fanno persino prescindere dalla partita dal campionato in realtà è una come dire una consorteria esistenziale che infatti li porta ad avere amici nemici una dinamica terribile che ricorderete Badia Alpino quel autogrill sull'autostrada del sole in cui si incontrarono casualmente tifosi in trasferta della Roma e del Napoli essere diedero di santa ragione con incidenti gravissimi peraltro lo stesso autogrill in cui era stato ucciso un tifoso della Lazio tanti anni fa perché in realtà questi gruppi di Ultras delle curve vivono di rituali e risentimenti ci sono delle vere e proprie guerre i tifosi della Stella Rossa di Belgrado che sono andati a Roma a rubare uno striscione della Roma di un gruppo di tifosi della Roma per una vendetta risalente a dieci anni fa ti dimostra una cosa terrificante ma questi appunto sono le curve si sa che quelle organizzazioni hanno dei loro sono come delle tribù il problema è un altro invece il nostro abbiamo un problema più vasto perché in realtà per tanti di noi la partigianeria il tifo la faziosità si accompagna alla Schadenfreude come dicono i tedeschi cioè al godere delle disgrazie altrui o auspicare le disgrazie altrui o la delegittimazione cattiva pesante degli avversari noi vi rivelo una cosa clamorosa veramente che farà domani crollare le borse io e Giacomo abbiamo appartenuto a lungo a una stessa chat di tifosi dell'Inter lui si è scisso mi sono scisso perché a me mi dava fastidio che ogni due per tre c'era uno che tirava fuori sapete come quando Teo Teocoli quando non si ricordava le battute cominciava a ballare in questa chat come in tante chat di segno opposici eccetera quando uno non sa più che dire dice Juve merda a me io ve lo dico francamente non sono Fido Juve ma a me che si debba così a capocchia che si debba come dire essere ontologicamente odiatori di qualcun altro pregiudizialmente mi sembra cioè non è il mio modo di vivere non mi piace non ho rancori o frustrazioni da alimentare e questa però è una cosa estesissima io vedo quando c'è qualcosa che dà fastidio a una parte a una tifoseria a tifosi di una squadra ci sono i tifosi dell'altra squadra a godere sarà che sono diventato vecchio sarà però a parte che anche da giovanile questa cosa non mi piace io mi riservo il privilegio se vedo un bel gol di De Maria della Juventus di dire guarda che bel gol non di soffrire o di sperare l'ho visto accadere che si rompa la gamba perché è uno di quell'altra squadra questo è un altro degli aspetti che va a finire anche nella politica dove finite le ideologie i partiti sono partiti innanzitutto quasi sempre di un leader partiti di veicolo di un leader tu dici Meloni Salvini Berlusconi Renzi Calenda Conte poi il leader durano circa 20-25 minuti senti per favore nomina la Schlein se no domani ti fanno un culo così perché non l'hai detto però magari io la nomino magari c'è un altro che nel PD non esistono le mezze stagioni aspetta una settimana almeno dai però insomma i partiti sono i loro leader tant'è che lo è perfino il partito più strutturato la ditta come si è sempre chiamato il PD adesso è il partito della Schlein e tutti aspetti che sia un partito su misura per come è fatta la Schlein questo ti fa capire come le ideologie o i programmi politici non continuano più niente infatti il PD ha avuto una crisi durissima con la dimissione di Letta dopo il deludente risultato elettorale ai tempi nostri in cui noi eravamo un po' più giovani esisteva la politica la prima cosa che si sarebbe dovuto fare è un congresso per decidere chi siamo e cosa vogliamo come si diceva una volta verso dove deve andare il partito democratico che interessi deve servire niente il dibattito si è orientato su Bonaccini o Schlein o Cuperlo De Micheli grazie quello che ha detto Moretti fuori grazie è sbagliato è eliminato ma com'è possibile ma come se ci fossero come se fossero le maschere della commedia dell'arte perché tu sai che cos'è balanzone che cos'è pantalone no cioè che sono portatori no sono persone e non ti pone il problema cosa fare rispetto ai Cinque Stelle rispetto al Terzo Polo rispetto al Centro Destra rispetto ai migranti niente niente troviamo una e ci penserà lei e così vale per tutti i partiti e che cosa succede che quando tu sei in realtà un'organizzazione in cui la politica non dico che sia una variabile perché non è vero i partiti sono tutti uguali non arrivo a dire queste idiozie però che in cui c'è come dire una libertà manovriera e poi la faziosità non è che diminuisce cresce perché non avendo tu dispute né ideologiche né politiche dirimenti e vai in realtà a fare la caccia all'errore dell'avversario perché è questo che fai e allora godi delle sue disgrazie e allora se uno sei vice segretario di Cani Cattì di quel partito ha problemi con la giustizia e daglie no sei e i partiti sono tutti giustizialisti con la fedina degli altri garantisti con la propria no e se vedete è una cosa clamorosa il centrodestra gioisce quando Berlusconi viene assolto no e però e via dicendo insomma ci siamo capiti vi faccio gli esempi siete tutti molto intelligenti e questo e questo è un problema di questa fase della politica ed è una cosa triste perché il garantismo dovrebbe essere per tutti certo se un partito ha un gruppo dirigente di 30 persone e li arrestano tutti il problema è il partito ma 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 sei sempre qua Enrico ti rifaccio la stessa domanda ma come mai siamo a questo degrado come mai cioè verrebbe da dire una cosa banale e non la dico non ci sono più i valori non ci sono più dei riferimenti ma perché non ci sono più i valori allora il discorso qui si fa serissimo eh certo mi sa mica comici mica da ridere qua ma sai che ti avevo scambiato e allora sempre chi ha più di 50 anni alzi la mano possiamo avere un po' di luce sì un po' di luce un po' di luce non c'è bisogno di fare il saluto romano basta alzare la mano non ho detto più di 80 allora quando noi 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 del millennio precedente eravamo giovani spegni pure si poteva sperare in un futuro migliore quando io avevo 15 anni nel 1970 fu approvato lo statuto dei lavoratori che oggi è ovvio è quasi come l'elenco del telefono che non c'è più peraltro scusa da vecchio devo dirla me la metti lì io da due anni lavoravo senza lo statuto dei lavoratori eccolo lì un esempio ma era normale era normale ma no ma che cazzo dici non è vero era normale fino al 1970 lo statuto dei lavoratori è una grandissima conquista sociale nello stesso anno il divorzio cioè fino al 1970 in Italia non c'era il divorzio noi sapevamo il divorzio era quella cosa che succedeva nei film americani che marito e moglie litigavano e divorziavano cos'era il divorzio? è quella roba in America in America c'è il divorzio ma non sto scherzando è così vedevamo il divorzio nel 70 fu introdotto il divorzio erano idee di futuro non vi dico che l'anno prima appunto eravamo andati sulla luna eravamo andati in senso lato c'era andato uno e due no però c'era l'idea che potesse succedere in futuro qualcosa di meglio si poteva sperare in qualcosa i partiti della sinistra quale idea plastica indicavano? il sol dell'avvenire perché nell'avvenire ci poteva essere una società migliore più giusta oggi nessun partito nessun partito vi parla di futuro nessuno guardate che questa è una rimozione clamorosa perché anche nessuno glielo chiede dice ma scusate voi come pensate che io tra dieci anni debba stare quali sono le conquiste che volete per voi i cambiamenti e perché? perché in realtà il mondo è andato in maniera diversa da come tutti prevedevano no? tant'è che voi pensate la cosa di che si dice sempre è la più ovvia il partito della sinistra non è più il più votato dagli operai il partito della sinistra è il meno votato nelle periferie ma perché? è perché ha creduto a un'idea di cambiamento della società che poi si è avverata e non ha più pagine delle cose nuove che teoricamente avrebbero potuto essere i migranti o cose di questo non lo so però non c'è più tant'è che perché vince la destra? perché poi appunto in quel non congresso che non c'è stato nel partito democratico anche quello si sarebbe dovuto chiedere ma perché questo fatto che poi ha vinto la destra non solo ha vinto la destra ha vinto la più a destra e non solo ha vinto quella più a destra ha vinto quella che è sempre stata all'opposizione e non solo ha vinto quella che è sempre stata all'opposizione ma anche quella che in realtà non ha né giornali né televisioni no? non si può certo dire che ci sia ci sia stato negli anni passati un coro mediatico a suo favore anzi quindi una vittoria che viene dal profondo e avete visto un'analisi su questo da parte di quelli che hanno perso? no niente niente ma in realtà quello dimostra che c'è un problema perché tanta gente normale tanta gente accanto a quelli che non se ne sono accorti ha votato per lei ha votato per Salvini ha votato per Berlusconi metà degli italiani che sono andati a votare hanno votato per questi la sinistra non si è posta il problema perché dico la sinistra? perché la destra ha un vantaggio su questo la destra non promette il cambiamento la destra promette soprattutto più sicurezza più ordine cioè le pulsioni immediate che valgono per oggi che sono attuabili oggi i respingimenti perché si ha paura che arrivi l'uomo nero troppi uomini neri no? perché quello i migranti non si pone mai il problema oddio sono arrivati dieci del Sri Lanka niente prendiamo e basta ma non è che dici sai sono arrivati otto peruviani non è un problema badanti cioè questo pone due problemi ti sto annoiando? no volevo aggiungere altre cose no prego perché io sai sono abituato a parlare lo so che è difficile interloquire con te ho capito? scherzo è una battutaccia ascoltami in effetti quello che dici è molto interessante perché parrebbe che adesso non ci sono i famosi valori i punti di riferimento quello che dicevi tu e tu in un qualche modo l'hai detto per quanto riguarda la sinistra ma aggiungo che magari anche in modo a volte scriteriato strumentale ma certe cose che una volta erano dei capisaldi come non so come chiamarla la spiritualità la religiosità o altre cose adesso vengono spesso secondo me strumentalizzate però vengono usate come arma del tradizionalismo contro il cambiamento però questo significa che nella società esistono ancora questi desideri che non sono soppiti non sono scomparsi ma sono nel nostro DNA appunto voglio dire adesso tutti siamo qui a parlare dell'omogenitorialità e ne siamo aperti per carità però nella nostra testa noi abbiamo sempre quelle idee quelle lì chi non ha evidentemente ha abbracciato il cambiamento anche dal punto di vista dei generi ha comunque nella testa nella sua forma mentis la tradizione e questo è il valore che viene utilizzato come legittimo dalla destra cioè quella cosa lì del poter stare in casa senza chiudere la porta chiave il fatto di essere una comunità omogenea senza diversi vi faccio notare una cosa che non si fa mai notare me la fece notare un grande che non c'è più Gino Strada che da tanti anni se tu vuoi disciplinare l'ingresso in una discoteca in un grande magazzino che cosa fai? anche nei posti più progressisti cosa fai? metti un signore con la pelle nera alto e grosso all'ingresso l'avete mai immagino capita quasi sempre non ci si fa caso ma hai capito? perché c'è ancora questa cosa dell'uomo nero che incute timore che fa paura immaginatelo pantografato nella parte magari meno colta più ignorante meno esperta della popolazione quella rinchiusa quella dei paesi quella la paura quella cosa che i più turpi nel mondo i suprematisti ma anche Orban chiamano la grande sostituzione la paura che arrivano loro e prendono il nostro posto però nelle periferie c'è questa paura perché un conto è se tu sei un architetto che sta davanti alla cattolica in quei bei cose in bei palazzi con davanti i prati eccetera eccetera e parli parli degli extracomunitari e quali sono gli extracomunitari che sono la colf la badante della mamma cioè sono questi non conoscono le contraddizioni le contraddizioni si trovano fuori fuori se tu tu puoi essere un grandissimo fautore dell'accoglienza però se ti trovi davanti hai un campo rom poi cioè se tu trovi tutte le difficoltà non è un caso che i peggiori nemici degli ultimi considerando gli ultimi i disperati che arrivano in Italia e devono in qualche modo arrabbattarsi per mangiare spesso finiscono a fare lavori illegali sono i penulti gli ex ultimi che magari hanno faticato per avere un appartamento in affitto là in fondo all'ultima casa popolare fuori dalla cerchia e se la trovano messa in discussione oppure paura di occupazione oppure di sera paura a tornare a casa se vedete queste sono le piccole paure che fanno perdere i fautori del progressismo che abbiamo così insensolato in tutte le periferie di tutte le città d'Italia e questo è un problema che c'è è un problema che esiste e che si accompagna all'altro però perché quell'architetto che in realtà gli extracomunitari riconosce soltanto come sostitutori dei lavori che davvero gli italiani non vogliono più fare e ci racconta l'altro aspetto cioè noi siamo diventati un popolo io così per volontà di esagerare ma per farmi capire ho chiamato il mio capitale di chiamarlo schiavista però noi in realtà abbiamo accettato l'idea che ci fa comodo di vivere per caste in cui la casta che fa i lavori tutti i lavori pesanti è fatta degli immigrati ma la gran parte se voi venendo qui sono passato da piazzale Loreto Corso Venezia c'è un grande McDonald e c'erano tutti pronti i ragazzi i rider a prendere con la bicicletta le cose da portare ed era sembrava quello che una volta era il manifesto di Benetton United Colors c'erano praticamente di tutte le etnie di tutti i colori scusate quelli sono dei lavori se vai a vedere nel mondo ospedaliero nel mondo delle RSA nel mondo delle Colf nel mondo dei lavori pesanti di quelli che devono trasportare mobili se vedi nel mondo dell'edilizia o Bergamaschi o Filippini vabbè adesso non voglio essere così razzista però se andate nel mondo delle pulizie le pulizie sapete quelle cose per cui nei grandi uffici arrivano a un certo punto alle 4 di mattina quelli che fanno tutte le pulizie quei macchinari lì sono tutti dei lavoratori stranieri e noi accettiamo senza che ci sia una compartecipazione nessuno li frequenta ad esempio quindi c'è un'esclusione sociale oltre che una stratificazione sociale che va a nostro vantaggio e soprattutto il discorso riguarda questi sono lavori che gli italiani obiettivamente non vogliono fare pulizie curare gli anziani stare con gli anziani i badanti sono quasi tutti sono quasi tutti stranieri di paesi più poveri confermo confermo e noi diciamo vabbè vabbè e vabbè come vabbè e c'è un problema allora che noi abbiamo che noi abbiamo accettato questo perché noi per noi stessi per i nostri figli vogliamo un lavoro per cui si scrive si legge un lavoro o di scrivania o proprio di una professione intellettuale e poi gli altri ci sarà qualcun altro che farà sempre questi lavori questo si può contrastare secondo me mi sono andato risolvendo questa idea solo in un modo perché perché oltre a tutto il vero non senso di tutto questo è che il lavoro di uno che magari non fa una mazza non fa niente se non rispondere al telefono è più pagato di quello che fa un trasportatore o il badante allora l'unica logica per invertire la tendenza visto che per i giovani per le generazioni sempre la cosa più importante sarà avere i soldi in tasca avere possibilità di spendere avere possibilità di viaggiare è ribaltare la logica per cui il lavoro più pesante viene remunerato di più il lavoro meno pesante viene remunerato di meno anche perché chi fatica per 40 anni poi non è che fa una vecchiaia dorata no cioè si è misurato con un lavoro più usurante e non si capisce perché invece la forbice dei salari sia totalmente invertita bisogna cambiare questa cosa secondo me è l'unica logica perché se no noi saremo un paese in cui saremo sempre più vecchi delegheremo sempre di più agli altri nostri lavori e prima o poi qualcuno si alzerà per dire che siamo un po' razzisti senti rimarrebbero due domande rimarrebbero due domande perché abbiamo già finito quella sulla semifinale la lascio per ultima ma in questo contesto che hai descritto mi sarebbe stare qua una settimana però insomma hai tratteggiato però ho disdetto tutti gli impegni hai tratteggiato abbastanza bene la situazione ecco ritorniamo qua e l'informazione adesso l'informazione no no perché fammi aggiungere una cosa che sicuramente lo sai non ti è sfuggita l'informazione oltre alle difficoltà che hai elencato prima credo che ne abbia un'altra e che è diventata una vera e propria industria o almeno a me sembra così una volta forse era diverso una volta c'era i giornali c'era la tele adesso mi sembra che sia diventata un'industria vera e propria e quindi l'industria non solo deve fare utili ma deve riempire di contenuti ciò che propone a me sembra una difficoltà in più mi sbaglio? no ma io io sono molto più severo di te con il futuro del giornalismo e dell'informazione perché secondo me il giornalismo è arrivato al capolinea il giornalismo come lo definiamo oggi il giornalismo è come i giradischi per intenderci come il calaesse cioè non c'è scritto da nessuna parte che il giornalismo sia per sempre e qui non faccio una cosa orwelliana per dire no il problema è un altro innanzitutto il giornalismo non esiste da sempre è un'invenzione di fatto del novecento dalla fine dell'ottocento ci sono i giornali ottocento sì cioè prima non c'erano i giornali prima non c'era la radio tutto quello che è stato l'informazione fino all'avvento della televisione non è che c'era da tanto prima stiamo parlando di cinquant'anni prima ed è da cinquant'anni prima cioè dall'inizio del novecento la gente sa quello che succede prima non lo si sapeva proprio lo si sapeva per ecchi perché si tramandava perché c'erano i cantastorie che passavano cioè non sottovalutate questo fatto e allora la grande conquista la grande invenzione fu il giornale perché metteva fissava per tutti quello che era successo il giornale era quella cosa per cui tu che eri di di Napoli piuttosto che di Bolzano andavi all'edicola e arrivato non c'era se cosa di dove eri magari più tardi nella giornata e arrivava a questo quotidiano dove c'erano le notizie su quello che era successo uno strumento forte di educazione e di democrazia perché è la portata di tutti la portata di tutti relativamente qualcuno non poteva spendere si andava al caffè al bar e c'era lì chi dei nostri contemporanei si litigava sopra il banco dei gelati c'era e si guadava ma questo è terribilmente è terribilmente decaduto per un fatto molto semplice che un giovane da ormai vent'anni vede lo strumento giornale come anacronistico perché io devo alzarmi lavarmi vestirmi uscire andare all'edicola spendere dei soldi per leggere le notizie di ieri quando mi sveglio e ho tre quattro possibilità di sapere cosa è successo fino a quel momento e questo ha cominciato a distruggere proprio l'utilità in radice dello strumento giornale i quotidiani hanno cominciato a passire lì oggi vendono penso un decimo di quello che vendevano trent'anni fa ma perché anche loro adesso negli ultimi anni è stato vorticoso hanno capito che la maggior parte delle persone si informa sullo smartphone ormai quello che sarebbe stato impossibile prevedere ovviamente perché noi io mi ricordo all'inizio degli anni 90 fu introdotto il cellulare in Italia prima non c'era il telefono cellulare di vedere solo nei film di James Bond come è possibile quando noi vedevamo quando io ero piccolo gli albi del falco si chiamavano in cui c'era Nembo Kid che era Superman allora si chiamava Nembo Kid non chiedetevi perché lui chiamava il suo amico Jimmy Olsen che era il redattore del secolo ventunesimo e c'era una sorta di orologio in cui appariva la faccia di Superman oppure addirittura insomma gli poteva fare da telefono era una cosa che sembrava fantascienza ma di quel tipo di fantascienza irrealizzabile quelle cose che non succederanno mai invece la realtà si è incaricata di superare tutto questo e del resto visto che sei un cinefilo 2001 Odissea nello spazio che è stata totalmente soppiantata nel senso che nel 2001 non c'era nulla di tutto quello che c'era nel 2001 di senso lo spazio consiste in una straordinaria anche qui veramente shespiriana lotta tra l'uomo e la macchina che è il super computer che sta sulla navicella spaziale e com'è il computer navicella spaziale è un cervello elettronico come si diceva allora di dimensioni mostruose mentre invece noi sappiamo che l'era del computer ci ha portato a cose che sono sempre più piccole e lo smartphone che non esisteva oggi è indispensabile per tutti nello smartphone manca solo di fare il caffè perché tutte le altre funzioni ormai sono supportate tu paghi ormai vedo che i giovani tutti pagano con la carta che sta nello smartphone o con l'applicazione che sta nello smartphone qualcuno perfino ha telefono con lo smartphone ma sono i più elitari e si fanno tutto si fa praticamente tutto una volta non c'era nulla di tutto questo e lo smartphone in questo momento in Italia e nel mondo è il principale strumento di informazione le notizie le leggi sullo smartphone ma che notizie leggi sullo smartphone appunto leggi notizie di 5-6 righe guardi dei video perché questa è la fase della modalità Netflix scegli soltanto quello che ti interessa che uccide perché ho parlato dei giornali uccide anche i telegiornali che me ne frega di aspettare fino alle 8 di sera per vedere le notizie che sceglie quello quando io voglio sapere e vedere le cose che decido io allora che voglio io modalità che chiamiamo Netflix ma in generale le cose me le vedo nello smartphone prima c'erano i computer portatili sui treni una volta tutti avevano il giornale poi è cominciato il giornale più computer e passavano anche a regalarti vuole Corriere Repubblica Viceso vuole Apple IBM ecco no ma ci sarà stato un giorno in cui quelli sono passati e alla fine del treno nessuno aveva preso il giornale nessuno ha preso il giornale ed è quello è stato il giorno del trapasso oggi io ero in treno e un giovane mi chiedeva il futuro del giornalismo perché voleva fare il giornalista guarda quanti giornali vede eravamo in fondo a uno scompartimento nessuno leggeva il giornale ma soprattutto per tornare all'altra parte quelle notizie di 6-7 righe in tempo reale o quasi quale mediazione giornalistica comportano minima zero grado zero grado uno si copia dalle agenzie oppure si racconta una cosa lo si prende da Twitter perché poi succede anche un'altra cosa adesso tu hai un momento di resipiscenza o di pazzia dipende dai punti di vista e mi uccidi non c'è nessun giornalista ma uno che fa la ripresina video e la posta su Twitter o un altro sarà colui che farà vedere al mondo questo atto di giustizia che tu stai per compiere sto scherzando aiuto o almeno scusate questo è il lato se dovete impressionare la scena allora questo vi fa capire che il giornalista a quel punto che fine fa se bisogna scrivere quattro righe in meno tempo possibile perché poi e devono avere un titolo accattivante non sapete cos'è successo tra Giacomo Poretti e Enrico Ventana perché uno deve cliccare e aprire perché se no hai meno traffico perché anche questo modifica aspetta deforma aspetta c'è lì il filmatino pronto Poretti ammazzamentale ammazzamentale non lo devi scrivere perché lo devono capire dopo guardate allora il prototipo è questo voi non sapete guardate cosa è successo alla top model nel bel mezzo della sfilata in passerella e tutti ovviamente con la lingona di fuori sperando che sia successo quello tu clicchi e parti la pubblicità della panda porca di quella puttana poi che cosa è successo a metà dalla passerella che uno gli ha dato un fiore lei l'ha accettato e quindi giustamente sei anche punito perché hai fatto il maiale e ti ritrovi col fiore e questo è giornalismo? aspetta Enrico aspetta aspetta queste sono diciamo così notizie con grassa aspettativa ma cazzata ma perché sei contro i fiori no e ieri è successo nel Tennessee che la ragazza Nashville che poi era in realtà era un transgender un transgender ma comunque io insieme a altre migliaia di persone filmato dell'irruzione clicco clicco voglio andare a vederlo track pubblicità e quello è il terribile pubblicità e poi c'è il cartello nero attenzione le immagini possono essere eccetera lo mettono lì per dire dai puoi ancora smettere no ti fa venire ancora più libidine clac no ma è così sai cioè la questione è che tutto viene fatto per creare traffico è è qua che volevo arrivare è questo perché perché se crei traffico perché se tu gli metti Poretti ha ucciso Mentana c'è già la notizia no se tu metti Poretti guardate cosa ha fatto Mentana uno dice cosa ha fatto Mentana speriamo che sia arrivato il momento giusto ci siamo tolti dalle palle apre non è successo spero no apre e così aumenta il traffico di quel di quel sito perché tu apri e trovi la pubblicità se è un video trovi la pubblicità prima del video se no a metà dell'articolo ci trovi la pubblicità e i siti vivono di quello perché il problema è quest'altro che per quello che ho detto prima nessuno paga più per l'informazione nessuno paga più per l'informazione magari paghi per la rivista magari paghi anche tanto però però il tuo editore mi fa pagare il Corriere il tuo editore mi fa pagare fa pagare sul sito ti fa pagare via web sì perché se no perché i giornali perché gli editori si sono trovati in questa trasformazione mica solo lui eh mica solo lui no 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 si sono trovati nel pieno di questa trasformazione cioè la transumanza verso il web dei lettori prima ancora che l'hanno capito tardi e però loro gli editori arrivano sul web mica nudi che nel caso di Cairo e arrivano con 400 giornalisti 200 giornalisti cioè questi li devono pagare finché li hanno no e per farli pagare per pagarli per stipendiarli tu hai una sola possibilità mettere il paywall delle notizie no far pagare le notizie pregiate diciamo ed è il motivo per cui come vedete c'è anche quest'altra trasformazione i giornali non sono più giornali di notizie ma ci sono l'intervista che fine ha fatto Aldo Baglio no e racconta eh io ero con Giovanni e Giacomo ma chi ci crede no e ci sono tutti i racconti perché servono a una lettura più facile ma anche più come dire invogliante e questo ha mutato la ragione dei giornali anche perché i giornali già nell'edizione cartacea sanno benissimo di essere letti da persone che non li leggono più per sapere cosa è successo perché lo sanno già cosa è successo i lettori allora vogliono altro e questa è la stagione della maturità dei giornali che sa anche di appassimento come la maturazione porta poi anche al marcire no e c'è è questa cosa che fine ha fatto il racconto la vita tempestosa di e ci sono grandi articolesse di interviste eccetera eccetera oppure grandi storie mille cose che non sapete sul film di Aldo Giovanni e Giacomo no tutte queste cose che servono un po' è forse non tutti sanno che un po' è guardate un po' cosa è successo un po' è tutti hanno film in tv stasera dove poter vedere Inter Napoli cioè perché tutto serve a fare traffico dai informazione ma fai traffico chi scrive queste cose è sempre meno il giornalista classico dei grandi film no sul giornalismo è la stampa bellezza è la stampa senza bellezza no cioè poi non si chiama più stampa si chiama ancora stampa ma nessuno stampa più niente no il web il mondo del web è questo e allora io provo a portare tanti giovani al giornalismo ma non so più a che giornalismo li devo portare non ho più proprio non conosco il futuro il giornalismo anche perché vi lascio prima dell'ultima domanda che spero posso stare qui anche due o tre ore non c'è problema però con un'ultima considerazione nessuno di noi vent'anni fa poteva pensare che vent'anni dopo il mondo sarebbe stato tale per cui tu potevi girare senza null'altro ma senza lo smartphone non facevi niente è diventato il perimetro delle nostre vite cioè nessuno conosce più un numero di telefono perché sta tutto nella memoria nella rubrica dello smartphone nessuno conosce più un itinerario perché sta tutto nel navigator eccetera eccetera nessuno fa più di conto perché apre e lo fa nessuno ha più i documenti perché li tiene là dentro e insomma ho visto gente piangere perché aveva perso lo smartphone perché c'era la vita sua le foto della prima comunione tutte queste c'è tutto no? e noi diciamo il backup dovete fare il backup che poi i vecchi lo scrivono BK BK e quelli fanno il check up però e la cosa drammatica è che noi crediamo che questo sia il punto d'arrivo ma così come vent'anni fa non potevamo immaginare che questo sarebbe magari tra vent'anni sarà un ricordo del passato appassito pensa erano i miei genitori erano così rincoglioniti che c'avevano questa cosa lo smartphone ci stava dentro tutto cioè noi non sappiamo mai quale sarà l'evoluzione perché non l'abbiamo saputo a prevedere così come il grande Kubrick in Odissea nello spazio aveva inventato un futuro che non si è realizzato non si è realizzato per niente così oggi noi non sappiamo se questo punto d'arrivo provvisorio è in realtà quello su cui costruiremo le identità e le culture del futuro culture poche perché con lo smartphone dopo un po' ti si fondono gli occhi a leggere e non è un caso che l'informazione va in 10 righe al massimo 10-15 righe perché tu un po' io sono un pazzo leggo di notte i giornali nello smartphone ma prima o poi arriveranno arriveranno due stranieri sicuramente infermieri che mi prenderanno e mi porteranno dove merito per follia di questo tipo senti prima di salutarci il film preferito di Hitchcock il più sottovalutato di Hitchcock sempre e un libro da consigliare in generale beh allora il libro è più facile l'intervista a Hitchcock di Truffaut adesso è sempre lì meraviglioso no no un libro meraviglioso se volete però un libro che ci porta al passato e al presente alle cose che abbiamo detto il desiderio di essere come tutti di Francesco Piccolo che è un libro di uno scrittore campano che racconta l'innamoramento per la sinistra degli italiani ma anche il passaggio dal terremoto da Sofia Loren che va in carcere cioè è uno specchio di uno spicchio di vita che ci porta però a pensare su realtà ipocrisia finzione autoelezione come essere intellettuali come essere insomma è un bel libro è un bel libro che ormai avrà 15 anni di vita me lo consiglio perché mi è tornato in mente una pagina l'altro giorno l'ho vista e ci parlava dell'oggi non ve la dico perché è troppo lungo però però ve lo dico parlava di quegli intellettuali che i giornali chiamavano per fare il titolo per fare l'articolo quello buono quello alla Michele Serra oggi si direbbe dice ha fondato un barcone che brutto che ha fondato il barcone che cattivi sono quelli che fanno e i poveri immigrati cioè in realtà c'era la figura dell'intellettuale indignato a gettone che faceva degli articoli che servono ai giornali per fare quella parte risaputa col ditino alzato siccome ovviamente si è parlato tanto dopo Cutro anche di questi argomenti mi è venuto in mente quella pagina devastante ma anche illuminante ma è uno dei 7-8 elementi spiazzanti di quel libro che invito a leggere o a rileggere detto questo mi chiedevi Hitchcock il più allora c'è la signora scompare che è antichissima che era ancora ovviamente in bianco e nero è bellissimo è una signora che doveva portare per conto del servizio segreto inglese a Londra un codice che era racchiuso in una canzone e lei passa attraverso una cosa agguati tentati di dire è un film bellissimo perché è come in tutti Hitchcock è un meccanismo a orologeria perfetto io ricordo in Notorious c'è una scena Cary Grant che sale le scale con il bicchiere di latte avvelenato sbaglio? qual è? dimmi è quello lì è quello non è Notorious è l'altro Rebecca forse no no facciamo aiutare il sospetto il sospetto il sospetto bravo perché poi se ne parla proprio nel libro viene svelato l'arcano proprio nel libro intervista di Truffaut a Hitchcock dicevi quando sale col bicchiere col bicchiere per rendere ancora più drammatico questo bicchiere lui ci ha messo una lampadina sotto che illumina il latte del bicchiere e quindi lo rende ancora più elemento di turbativa di paura e sono uno dei mille cose cioè lì ci sono in quei film il sospetto però appunto ci sono dei meccanismi di orologeria della paura che sono clamorosi comunque se io finisco dovessi dire invece un grandissimo film che ho amato dell'era del bianco e nero che se fossi in una platea di 30 anni di età media di più consiglierei a tutti è Out of the Past Le catene della colpa di Jacques Tourner il più grande regista del noir americano ovviamente di origine francese con Robert Mitchum che era il più grande di tutti ed è un film nero straordinario un film bellissimo e come purtroppo non se ne fanno più ti consiglio quindi recuperarlo e se non lo recuperi la prossima volta ti faccio un'interrogazione che mi farà capire mi farò trovare preparato direttore senti un po' e hai paura? nella vita? sì no nella vita non ho nessuna paura no? no non sono proprio un pauroso per niente neanche la vecchiaia ti impaurisce no no la vecchiaia non mi impaurisce la morte no la morte è la cosa che mi impaurisce poi siamo passati tutti dal covid noi meno giovani nei mesi di silenzio sei stato male io sì tu così così no non sono stato male ho avuto il covid l'anno scorso l'ho avuto dopo tardivo l'ho avuto io ho stato paziente uno e paziente ultimo quindi ti capisco bene sei stato impaziente sono stato impaziente e insomma quando passi da questa cosa dramma collettivo tragedia la vera dramma molto più della guerra è stato il covid per noi una tragedia collettiva ovviamente rifletti sulla vita e la morte è un è un bugiardo chi dice almeno che non sia giovane che non ci ha pensato no? e quindi questo ti permette di fare i tuoi conti i tuoi esami di coscienza no? e io francamente lo dico senza fare il duretto io di morire non ho nessuna paura perché ho fatto tanto perché sono in là con l'età perché ho avuto mi sono preso le mie belle soddisfazioni ho quattro figli insomma ho tutto ho avuto tutto tutto quello che viene questa è la mia posizione mentale in questo momento tutto quello che viene è ben accetto ma non ho non soffro di paure non ho non ho paura ma neanche dell'undici aprile allora qui se parliamo di calcio ecco vedi che non voglio soffrire ecco non voglio soffrire allora undici aprile Lisbona Benfica Inter diciannove aprile San Siro Inter Benfica quarti di finale Champions League voi dovete sapere che i tifosi dell'Inter pensano che quest'anno sia un anno disgraziato ma non c'è un tifoso dell'Inter che non pensi anche a quest'altra cosa se per caso abbiamo fortuna e nella doppia sfida col Benfica vinciamo poi troviamo in semifinale Champions League il Napoli o il Milan io voglio morire lo dico te lo dico già fatemi morire se poi nel caso mi risuscitate hai capito però cosa vuol dire e quelli sono alla nostra portata tutte e due sono alla nostra portata tutte e tre citate Benfica e se hai quella parte del corpo che viene spesso citata per parlare dei numi se hai culo e te la giochi vai in finale della Champions League e lì come noi sappiamo tutto è possibile signori e signori ringraziamo Enrico Mentana grazie ringraziamo Cambly che ha gentilmente sostenuto la puntata grazie Enrico io starei qua un'altra settimana io starei qua un'altra settimana però perché sei veramente un fiume in piena mi stavo scaldando adesso ho capito ma questa è gente che deve andare a casa a fare le iniezioni mettere le supposte vanno a vedere vanno a casa per recuperare Out of the Past Out of the Past and Holly Hitchcock thank you very much grazie a tutti ciao